che ti serve? di solito sta sul tavolo, dall'altra parte, io non lo vedo, l'angolo dietro il filo da qualche parte lì, si scagliotte, eccolo qua il metro, se spostare le cose bene troppo, quindi dai, lei la facciamo non c'è mezzo sopra? si, sopra si, 25 e mezzo per 22 e mezzo, 25 e mezzo per 22 e mezzo solo che là c'andrebbe un montante sull'angolo, là, così, no c'andrebbe un montante proprio sull'angolo così, perché ti si può, cioè se no se tu non ci metti il montante è quello di, quel taglio lì ti si... si, anche si, però qua qui, cioè uno viene così e non riesco a mettere lì, va bene, questo è un po', capito, cioè una situazione un po' artistica, un po' al momento, capito? pronto? pronto?